Extra RAM Un'altra ripresa Un'altra ripresa Sì, ecco L'anno scorso un po' più Sì, ma ha fatto Anche a dire che questo è Pistolabile Allontanate gli arrivi Allontanate gli arrivi Allontanate gli arrivi Porta salente Se ti metta non passi L'arrabia Sospende il match Ma che è un test Sì, non è un test Iniziamo Voi Un test guarda le piedi, guarda le piedi ma non c'hanno la contiglia eh sì sì è veloce domenica guardate dove stasica guarda questo è il nonno vai ma come non ti cedono la pensione, vai vai Matti, vai bravo bravo vince per sottomissione Mattia Romano, anglo-rosso primo passo grazie 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 a tutti